Troveremo sicuramente quel che cercherà. Tu lo sai, a me mi piacciono le cose particolari. E lo so che mi ha fatto attenzione, dobbiamo fare belli incontri assicurati e basta. Mamma, bello questo! Bianco e rosso, mamma! Forza bello, forza bello! Senta mamma, però mi raccomando, non scegliere in basso l'endusiastico. E poi dobbiamo trovare i divani spaziali. Piacere a Mimmo Tarreda. Buongiorno. Posso aiutarvi? Si grazie, siccome devo sposarmi. Si, ha trovato una sorta di stazione. Mamma, beata lei. Volevamo vedere dell'arredo. Un po' di arredo, una stanza da letto, un soggiorno. E un divanuccio, un 3-4 posti. Un divanuccio, 3-4 posti. Noi vengono in giacca di ospitali ogni volta. Un divano grande, spaziale, con la città di tutti. Un divano grande, va bene. E poi degli accessori per il bagno. Si. E al dolà, al dolà. Il bagno è roba a me. Ucce, è roba a me. Simpatica la mamma. Si, bene. Va bene, allora facciamo così. Iniziamo a vedere i bagni. Seguitemi, seguitemi. No, seguitemi. Io vengo a vedere il bagno perché è il regalo per lei. Tu devi stare qua sola. Buongiorno. Buongiorno. Uccio Tarreda. Lel. Tarreda, fratelli? No. E qui tutti Tarreda. Tarreda il padre, Tarreda la madre, Tarreda la figlia. Tarreda tutta la famiglia. Sì. Uccio, fai una cosa. Accompagna la signora a vedere i bagni, quelli nuovi. Sì. Vorrei vedere i bagni un po' particolari. Abbiamo quelli tecnologici che sono arrivati adesso. Ma ora proprio. Esatto. Venga signora, venga. Buone mani. Buon lavoro. 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 E ora non è che io trovo la fotografia di quel che è proprio... Ecco qua signora. Ecco. Quando le devo fare per lei? Grazie. Molto gentile. Allora. Questo, diciamo, è quello che io punto sulla vendita tecnologico, voglio dire, cioè gli unici poi in Italia. Che sarebbe poi? Che sarebbe? Quello che l'ho fatto vedere prima, che a lei non piaceva, che diciamo la foto non è veritiera, diciamo. Sì. Eccolo qua. No. Sì, questo qua. Questo è il bagno Microsoft. Microsoft? Microsoft. Ah, no. Con il computer. Vedi, metti la spin, metti la prolonge se non ce l'hai. È difficile da usare. No, stanno discluso. Qui c'è anche l'hard disk. Ah. Non c'è ma hard disk perché c'è roba di chess e quindi... Ah, hard disk. Sto capito. Ma io con tutti gli scorsi non ci sono tutti questi... E questi sono cinque bottoni. Cinque bottoni? Vedi, sta scritto, vedi, con il computer tecnologico, con B10 e cinque bottoni. Oh, cazzo. Che diventerà la più famosa questa della pizza ai quattro formaggi alle quattro stagioni. Ma vabbè però, scusate, siccome non sono una donna molto strovita, quando mi dite uno per uno funziona. Ma è imbarazzante, le istruzioni, le mette la spina. Ma non fighi, vedi, ti devi andare a fare tutti i tripotti. È funzionale, anche perché diciamo uno che... Una volta tutti mettevi sopra... Sì, effettivamente. Diciamo che... Scartavetrà. Adesso invece, ecco, non c'è più questo lavoro. Ogni bottone ha la funzione. Per piacere, per gentilitudine dimmi proprio una alla volta che cos'è. Metto. Signora, tu ti siedi su e metti in pole position, no? Sì. Allora, come schiacci il primo bottone? Schiacci... E ti sciacqui. Fantasioso. Secondo bottone, come lo spingi? Si asciuga. Esplodente. Terzo bottone, questo è proprio... Spingi e... Diciamo... Vieni come una pettinata. Tipo la dica al centro, poi ognuno... Me la vuoi la fare, non... Quarto bottone, spingi... E quarto... Ah... Esce il profumo. Cazzo! E quinto bottone, stai. Spingi e sto... Ne voglio due. Ne ordino due. No, me ne ho due. No, me ne ho due. Sì, perché pure io, sempre, di queste cose... Pure io mi sento ardi comunque. Si ardisce anche lei. Sì, mi ardi stai anche lei. No, mi viene. No, mi viene.